È capitato a volte di ricevere segnalazioni o lamentele da parte di persone che proprio denunciano il furto qui all'interno del cimitero, di fiori o quant'altro? Certamente, purtroppo sono cose che sono all'ordine del giorno e che comunque non è possibile fronteggiare perché è anche la limitatezza del personale a disposizione e la grandezza del cimitero. Cosa è che viene rubato solitamente? Prattamente le principali lamentere che riceviamo sono inerenti a furti di fiori, lumini e cose varie, quindi comunque articoli di non molta importanza o comunque poca relevanza economica. Però comunque a livello così umano è molto sentito, soprattutto dalle persone che hanno una certa età, che recandosi dal cimitero magari per trovare i propri cari, trovano l'ammanco di un qualcosa che loro anche con sacrificio hanno acquistato per poter soddisfare anche il loro dolore. Ma vedendo solo così sparire è proprio un disagio notevole. Potrebbero essere quindi dei bisognosi a rubare questi piccoli oggetti? Probabilmente sì, visto anche la limitata entità, il valore economico piuttosto basso del materiale trafugato. Si dice che qualcuno sia posti addirittura per cercare di fotografare questi laberi? Sì, spesso in mentire si è reso necessario da parte delle persone interessate per poter avere un risultato, poter avere una prova, appostarsi anche per giorni consecutivi, perché come dicevo non è possibile da parte nostra, siamo solo in due per turno, poter controllare un intero cimitero di questa entità, di questa vastità. Potrebbero essere degli anziani stessi a rubare questi fiori? Probabilmente sì, come dicevo prima, visto anche il poco valore economico del materiale trafugato, è presumibile. Dottor Asconio, in base alle segnalazioni a voi giunte, qual è la dimensione del fenomeno dei furti ai cimiteri di Sanremo? Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per piccoli furti di fiori, piante, oggettistica religiosa. Abbiamo fatto dei controlli, però non è comunque semplice accertare questo tipo di violazione, perché l'area cimiteriale è molto vasta qua a Sanremo. Comunque siamo anche noi riusciti a svolgere un'attività preventiva, che per un certo periodo ha evitato che questi piccoli furti si potessero svolgere. Vista la piccola entità dei furti, si può presumere che si tratti, dalla parte dei lati, di persone bisognose o piccoli disperati? Sembrerebbe di sì, perché poi in effetti si tratta della pianta piuttosto che del mazzo di fiori. Non sono mai furti così rilevanti, anche se all'interno di alcune tombe alcuni oggetti magari sono di pregio. Comunque nei nostri controlli abbiamo anche cercato di capire se dietro a questo tipo di attività ci fosse una certa organizzazione, se in effetti qualcuno prendesse questi oggetti per poi rivenderli. Ecco, dai nostri controlli questa situazione non è emersa. È chiaro che comunque, visto e considerato che questi piccoli fenomeni continuano purtroppo a verificarsi, da parte nostra ci sarà una maggiore attenzione per cercare comunque di venire a capo di questo problema. Controlli da fare ovviamente in borghese? Sì, sì, beh, certamente. Già in passato li abbiamo fatti in abiti civili, anche perché la zona non consente sicuramente di muoverci in divisa. Ecco, siamo estremamente visibili, quindi diventa difficile che chi ha intenzione di fare questo tipo di attività lo faccia vedendo le divise all'interno del cimitero. Grazie a tutti.